Ci chiedono di pregare, noi preghiamo subito. Una volta ho detto alle suore, alle sette del mattino andavo a celebrare alle suore figlie di Maria Ossigliatrice a Dalì e quel giorno avevo una cosa molto delicata che dovevo spiegare, ho detto, mi chiedo la carità di fare una preghiera per me. Quelle erano là, aspettavano che dessi la benedizione, se forse non l'avete capito, io non me ne vado da qua se non mi fate la preghiera. Dico, io lo so che poi pregherete, ma io ho occhio ora. Ecco, come lui ha chiesto la preghiera, noi la facciamo ora così siamo già coperti. Ecco, poi continuiamo pure. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Angelo di Dio, che sei il custode e il lumina, custodesci e regi e governa a me, che ti fui affidato alla pietà celeste. Madre di misericordia, prega per noi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 I peccati dei miei antenati. Spezza ogni catena del male che tiene me e la mia famiglia legati a fatture, a maledizioni, a malefici, a malattie ereditare. E brucia tutti questi mali all'inferno affinché io possa essere guarito e liberato definitivamente. Repitiamo insieme. Gesù per le tue sante piaghe guariscimi. Gesù per le tue sante piaghe guariscimi. Per la tua santa piaga della mano sinistra, libera da ogni malattia fisica, soprattutto quelle gravi e incurabili, come il tumore, il cancro, la SLA, la scherosi multipla, ogni malattia legata al sistema immunitario. Rivingorisci il mio corpo per affrontare le nuove e sempre più aggressive malattie che insordono per la continua contaminazione e avvenenamento dell'aria, dell'acqua, dei cibi, da parte dei malvagi di questo mondo, gli illuminati massoni. guariscimi da tutte le malattie provocate dai malifici, dalle fatture, dalle maledizioni, dalle maledizioni generazionali, dai cerchi di morte, dagli incantesimi, dai sortilegi, dalle fatture fatte con gli specchi e da ogni altro genere di stremonerie fatte da persone perfide e malvagie, per invidia, gelosia e vendetta. Fai che ogni augurio di morte, ogni opera maledica, fatta per provocare la morte, si trasformi in pienezza di vita, di pace, di gioia e di tranquillità. Ripetiamo insieme. Gesù, per le tue sante piaghe, salvami. Gesù, per le tue sante piaghe, salvami. Per la tua santa piaga del piede destro, salvami dalle infinite insidie dei diavoli e dei suoi seguaci, che sono origine del male e di ogni peccato. Fai che cammini sempre seguendo la tua legge e i tuoi comandamenti, compiendo ogni giorno la tua santa volontà, per la potenza di questa tua piaga. Fa' che io vinca ogni tentazione, ogni suggestione, ogni seduzione e ogni inganno del maligno. Ripetiamo insieme. Gesù, per la tua santa piaga, consolami. Gesù, per la tua santa piaga, consolami. Gesù, per la tua santa piaga del piede sinistro, donami la forza di affrontare le prove dolorose della vita. Fa' che mai indietreggi davanti alle difficoltà, che mai cede ai compromessi con il mondo, alle lusinghe del maligno. Perché, come dice San Paolo, passa la scena di questo mondo. Prima lettere Corinzi, 7, versetto 31. Solo il tuo Signore rimani per sempre. Fammi sentire la tua presenza, il tuo amore misericordioso, che spalancano il cuore alla felicità, quella vera, quella che tu hai preparato per me fin dall'eternità. Ripetiamo insieme. Gesù, per le tue sante piaghe, convertimi. Gesù, per le tue sante piaghe, convertimi. Gesù, per la tua santa piaga del tuo sagratissimo cuore, metto davanti a te tutte le mie sofferenze, soprattutto quelle del cuore, sia fisiche che morale. Guarisci e libera il mio cuore da tutte le ferite emozionali, da tutti i traumi, da tutte le esperienze negative, da tutti i ricordi dolorosi e da tutte le violenze subite, sia fisiche che morali. Ecco, Gesù, ti dono questo mio povero cuore e tu donami il tuo, perché io sappia amare e perdonare come tu hai saputo fare. Signore, pongo davanti a te tutte le sofferenze dei miei cari, dei miei familiari, dei miei parenti, dei miei amici e di tutti coloro che si raccomandano alle mie preghiere. Il sangue e l'acqua che sgorgono da ferite del tuo costato scendono su tutti noi con l'abbondanza di ogni grazia e benedizione. Ripetiamo insieme. Gesù, per le tue sante piaghe, santificami. Gesù, per le tue sante piaghe, santificami. Gesù, per il tuo sacro capo trafitto da cutissime spine, abbi pietà di tutti i nostri dolori alla testa di tutte le trafitture, di tutte le malattie mentali che ci tormentano. Liberaci da tutti i pensieri ossessivi che martellano la nostra mente senza dare trego e riposo. Purifica questa mia mente con il sangue del tuo capo trafitto perché ogni nostro pensiero sia di pace, di benevolenza, di misericordia, di carità e di perdono. Mai il velemo di Satana si insinua nella nostra mente per spingerci a compiere il male. Ripetiamo insieme. Gesù, per le tue sante piaghe, ascoltami. Gesù, per le tue sante piaghe, ascoltami. Gesù, per tutti i dolori atroci che è passato nel orto del Gezzemani, nella flagellazione della colonna, per la dolorosissima piaga della spalla destra, per tutti i tuoi santi lividi, per gli sputi, per gli schiaffi, per l'aspettata coscifissione, per la tua morte e risurrezione, accogli nel tuo cuore, misericordioso, le intenzioni che in questo momento ti offriamo, non le intenzioni di cui abbiamo bisogno mentalmente. Ripetiamo insieme. Gesù, per le tue sante piaghe, esaudiscimi. Gesù, per le tue sante piaghe, esaudiscimi. O buon Gesù, tu sei e conosci ogni nostra sofferenza, esaudiscimi anche per le preghiere e per le lacrime della tua nostra e Madre Celeste, la Vergine Santissima, perché tu nulla rifiuti a quale che ti amo tanto, per l'intercessione della Vergine Maria che scioglie tutti i nodi, chiediamo che sia sciolto in questo momento ogni nostro mare per essere liberati definitivamente. Per l'intercessione dell'Arcangelo Michele, di San Giuseppe Terrore di Diavoli, di San Giuda Taddeo, di San Benedetto, di San Charbet, di Santa Rita, di Santa Bernadette, di San Padre Pio, di Santa Espedito, di San Giovanni Paolo II, di Santa Gemma del Gano, di Santa Agnese, di tutti gli angeli, i santi del Paradiso e per le anime santo e il Purgatorio, domani la completa liberazione di ogni male, perché io posso testimonare sempre e ovunque la grandezza e le meraviglie del tuo amore. Ripetiamo insieme, grazie Gesù, grazie Gesù, lode e gloria a te, lode e gloria a te, gloria al Padre, figlio e allo Spirito Santo, gloria nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Apriamo le mani. Riconosco che io sono un peccatore, ma so bene che tu mi ami, Signor, modellami e plasmami come tu vuoi. Eccomi, Signor, Tu, Signore, mi guarisci da un rimane, sei la mia certezza, il mio rifugio, Tu mi chiami a vivere in te che sei la via, la verità e la vita. Gento le reti sulla tua parola, lascio tutto e seguo te, Signore, E' bello stare alla tua presenza, tu sei il mio amore, tu, Signore, mi guarisci da un imame, sei la mia certezza, il mio rifugio, Tu mi chiami a vivere in te che sei la via, la verità e la vita. Voglio abbracciare con amore la mia croce, obbedire a te e fare ciò che vuoi tu. Nulla mai mi mancherà, perché tu sei con me. Tu, Signore, mi guarisci da un imame, sei la mia certezza, il mio rifugio, Tu mi chiami a vivere in te che sei la via, la verità e la vita. Allora, voglio ringraziare Don Francesco e Don Marcello Stanzione per questa organizzazione. E' stato veramente bello. E' il primo ritiro spirituale che partecipo. Perché io vado nelle parrocchie e non facciamo ritiri spirituali. Visto? E' una cosa diversa. Questo è il primo ritiro spirituale che facciamo. sono andato in Sardegna ma era diverso il ritiro spirituale. Non era un vero ritiro spirituale come questo. Bene? Grazie a voi a voi, a Don Marcello, a tutti voi che siete venuti in tanti. Grazie a voi. Ricordo che... Non ho potuto ricevere tutti che eravate tantissimi, però tantissimi ne avevano ricevuti. Il lunedì, mercoledì e venerdì noi tutte le sere facciamo perché arrivano i giorni grazie all'indiretta su YouTube e su Facebook e ci hanno messo a domare tutte le mattine. Siamo sempre in diretta all'associazione. Adesso io di solito quando concordiamo le preghiere facciamo questo canto che è bellissimo cantiamo tutti e ci teniamo per mano tutti quanti. Ok? Prima del canto desideravo dire il mio grazie anche il nome di ciascuno di voi per il dono della disponibilità di vino. Lo ringraziamo veramente e ringraziamo ciascuno dei volontari dell'associazione Nadia Gaetano Mirko Samantha io non me li ricordo tutti i nomi sappiateli amati continuiamo a pregare gli uni e gli altri ci sosteniamo e sosteniamo anche l'impegno ecco come diceva Don Basqualino dei poveri più poveri dei poveri tante volte le persone che hanno difficoltà spirituali a volte hanno bisogno anche di ricostruire la personalità ma soprattutto possono avere delle ferite spirituali particolari tante volte non vengono compresi non vengono accolti e invece avere persone che si prendono cura di persone che hanno veramente bisogno di essere ascoltate accolte sostenute è importante quindi ringraziamo il Signore anche per il dono dell'associazione di ogni singolo membro dell'associazione volevo ricordare oltre che a Cagliari saremo ad Assemini all'hotel Grillo credo che sia non lo ricordo bene sì e l'ultimo no il weekend che va dal 7, 8, 9 e 10 di marzo che c'è insieme a Gabriele Reitano Maria ecco ci sarà Pino proprio per fare questo momento di grazia insieme vi chiediamo di pregare di accompagnarci con la preghiera siamo con Don Marcello Stanzione io padre Ivano Liguori padre Cappuccino a Cagliari magari ci seguite in streaming perché loro trasmettono ecco e anche nei vari canali ecco dell'associazione o anche degli altri canali ecco riusciamo a seguire e a tenerci in contatto un'altra cosa ad aprile e proprio per la festa della divina misericordia venerdì sabato e domenica 5, 6 e 7 aprile da Don Marcello ci sarà anche questo momento di grazia che si vivrà nella parrocchia aperto a tutti un altro evento aperto a tutti per la Sicilia quindi organizzatevi ma non c'è la possibilità di avere albergo vi organizzate come volete è libero non ci sono pass anche qui è gratuito sarà nella parrocchia di Santa Rosalia a Rina quindi 4 e 5 di maggio d'accordo? giusto per saperlo organizzate chi vuole chiesa di Santa Rosalia a Rina frazione di Savoca nella zona di Santa Teresa di Riva giusto per per avere conozione di questo poi in ogni caso se seguite il programma che puntualmente Pino pubblica insieme ai volontari pubblicano sul sito dell'associazione Nostra Signora di Lourdes di Missaglia trovate tutti i programmi anche quando vanno in giro proprio per vivere questi momenti belli per quanti volessero il 28 e il 29 di settembre e proprio per la festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele faremo alla Casa di Spiritual Centro di Spiritualità e Santuario di Gesù al Getsemani di Pestum faremo Salerno faremo un convegno più o meno come questo una o due giorni bella piena anticipata di qualche ecco anticipate eventualmente la vostra prenotazione perché i posti sono molto limitati 180 in tutto chi vuole prendere il Debian ci sono esatto sul tavolo di Ria ci sono i Debian che abbiamo già preparato tutto chiaro tutto chiaro se non è chiaro vi ascoltate tutti gli avvisi nel nostro sito ci sono tutti impegni dove andiamo nelle parrocche e nelle reti spirituali andate al nostro sito incontro di preghiera c'è su tutto bene ricordate il lunedì mercoledì le preghiere di guarigione di grazione per tutti se c'è la gente che guarisce si vede anche a casa il Signore agisce lo Spirito Santo agisce e arriva ovunque grazie anche se ci sono delle testimonianze scrivetele mettetele per iscritto oppure comunicatele perché è importante questo anche per dare gloria al Signore non tanto per dire che bravo che bravissimo che bellissimo che no ma per dare gloria al Dio questo è importante perché come dicevamo prima una grazia che il Signore fa per uno vuole farla per tutti e dobbiamo crederci che il Signore quello che fa per una persona non vuole fare per tutti quindi suscita anche la fede sapete che la fede procura i miracoli permette che i miracoli accadano e i miracoli suscitano ancora di più la fede quindi si crea un circolo virtuoso ed è importante questo bene concludiamo col canto anche perché loro poi hanno l'aereo quindi ricongettiamo ecco ci teniamo tutti per maggio che cosa ti venderò per quello che mi hai dato inizio inizio il mio cuore come un calice ridone con tutte le forze grazie 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 infinitamente grazie 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 di ciò che sei per me grazie 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 infinitamente grazie 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 di ciò che sei per me grazie